Ragazzi fate quello che volete, avete due rossi, potete non usare La torre Ragazzi Sono a livello 100 Ragazzi, guardate cosa sto facendo Cosa fa? Lo vedi? Guarda il mio numero Non ti dice niente? Eren perché c'è il 100? 68, eh ho finito Ah davvero? No sono all'ultimo livello Aspetta è che ha finito No, è al 69 e ora è al 68 Ragazzi, tipo Tec da me Non puoi, non puoi farlo Sì che posso Aspetta, aspetta, no, com'è il rosso? Come funziona? Il rosso è che Tipo a lui da Io tipo uno da me Prima che hai te che faccio una cazzata Lo voglio tippare da me Cazzo, ok, fate come volete Vieni Tano, ti voglio bene Vieni con me Raga, il primo che fa Fa Cosa? Io non sto facendo niente Faccio io, faccio io Ho utilizzato il mio buberoncino Tieni Perfetto Sei qui Raga Tec è tornato indietro Al livello più difficile Per inculare gli altri Si è fatto tippare in avanti Non ci credo Sì, sì Ma ora tanto non so da che parte deve andare Quindi Tec Tec, tu hai ancora il TP rosso Esatto Cazzo Tector L'è in gioco di prepotizzolo Casatissimo Raga Che figa ti hai fatto Lui è andato a 68 Sapete per cosa fare? Per tippare me E buttarmi di sotto Sì Perché era difficile Cioè Raga Tec Tec è stato fermo tre video E ora se la gioca Non ci credo che cosa fa Mio Dio Sto volando Raga Sono già bloccato all'inizio della torre No E di qua tanno la strada Va bene Vai vai Sicuramente Ma tu hai fatto Ma sono proprio ritardato nel cervello Cioè tu hai fatto Gli ultimi Il 97 Cioè il 98 L'ho fatto in due secondi Aaron Zio Lui è pazzo Io non ve l'ho detto Ma mentre tu eri bloccato Io ho sbloccato il 90% della potenza E ora Vado a fare il 100% Arrivo Che cazzo Tec si è perso Quando i cattivi Arrivano e stanno già Distruggendo gli eroi Cosa fanno Sbloccano lo stesso la forma finale Per fare i fighi Ragazzi Ora Sono alla mia forma finale Il 100% Conquistiamo la cazzo di torre Conquistiamo la cazzo di torre E finiamo sta cazzo di mappa Ok Ma si fermo Tano Minchia ragazzi Sono gasatissimo Cazzo Sto sperando che tu vada da qualche parte Sperando che sia la direzione sbagliata Ho messo la fascia Ora che mi stringe la testa I neuroni sono più concentrati Posso partire andare indietro Dovresti fare indietro Tearless Non me Ok Ok top Prima parte della torre è fatta Se mi ritipate indietro Questo è vero Io vi do di nuovo la paga E me ne vado per sempre Ciao Beh ma Fateli fare qualche livello tier E poi lo tippate Adesso non serve a niente È lì No dai raga Beh tu potresti finire però Stronzi Volete andare a dormire? Sì E allora Io potrei finire Ma io sono al 100% Raga Cioè Ragazzi sto volando Appena ho messo la fascia Ho schiacciato la testa Ho pensato E ho capito dove dovevo andare È stata una roba fulminante Mi ritipate in un posto sbagliato Ma ti pare Come faccio a tippare in un posto sbagliato bro Guarda dove sono io Sono già avanti Ok Ho sbagliato Mi sto mangiando la torre No comunque Mi sto mangiando la torre Buona parte Buona Se non mi tippi ti spiego la strada Guarda No ma sta Guarda Tano che Si gioca quello che può Da questa parte qui Ti spiego la strada Non sa più come convincere gli altri A farsi aiutare No no È che Lui è lento E tippare indietro Capisci Devo sbloccare il cento elode La forma finale Cento elode Che non è bella oria Cos'è Raga devo superare il limite del cento per cento Del super parkourer No 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 Il super parkourian suona meglio Devo superare il limite del super parkourian O sarà per un'altra mappa No guarda che non è difficile come sta Allora quello lì però Ragazzi il super parkourian Non può sbagliare No non è difficile Non sbaglia queste cose Non sbaglia queste cose Non sbaglia queste cose Mio dio Quanta hype Ragazzi sto volando sulla torre Mi sta consumando questa forma Mi sta devastando l'anima Vai Tano Ce la possiamo fare Vuoi fare te? Ok Non so se era necessario Ma va bene Ok Ok T era del 94 eh Potreste tipparlo ora Eh beh Aspetta aspetta Sta guadagnando È un momento no È un momento no Sta guadagnando Yes 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 94 tirless Sono tornato al momento di prima No dai raga Per favore Lo tippiamo qua Lo buttiamo di sotto In due Che merda siete Certo che lo facciamo No raga Raga io spero di finire Per venire a vedere Quello che fate Allora aspetta Tano Aspetta Tano Non facciamo niente È il momento Di recuperare qua Perché Lo dobbiamo buttare sotto dopo Dovete avanzare Qualche livello però Dobbiamo fare qualche livello Tano Raga Io non so se la torre è facile Ma per il momento O se è la mia forma Ma per il momento Non ho avuto difficoltà No la torre è come non è difficile Ragazzi Cioè sono in un momento Cioè sono imbattibile Potrei sfidare Prestonplace Il boss finale Il boss finale Te che Ma se lo tippassimo Qua lo buttassimo sotto là Quanti livelli Ci si fa indietro Un botto No raga Voi siete malvagi un sacco Se lo fate Se lo fate Io ho ancora un potere Un potere Se lo fate Io quitto Mi prendo la schiena imbarazzante E potetevi tutto Raga se Cioè voi lo buttate giù Dal muro Lo buttate giù No raga Cioè Raga fatelo quando ho finito Vi prego Se lo dovete fare Fatelo dopo Tano di qua Bisogna andare Sicuramente Ma bisogna usare quel coso lì Sai che se sbagliamo Sì devi saltare Non so Infatti non mi ha preso la gialla Tier come ci è finito Questa situazione di merda Com'è successo Perché sono dei figli di puttane Ecco come Tano Tano l'ho passato L'ho passato Anch'io Anch'io Siamo tutti Tutti al livello dopo Tier sta volando Per cercare di Di andare nella zona di comfort Sto volando Sì Raga mi inizia a far male la testa Un sacco Devo muovermi Tano bisogna Devo muovermi Abbiamo sbagliato Ragazzi c'è un portale C'è un portale Dell'end che si forma Mi sa che è il finale Raga mi sa che è il finale Come il finale Già finale Si sta spaccando tutto Ragazzi Oh mio dio E adesso Vinco La parkour Pyramid L'ho detto giusto Devo togliermi La fascia della forma finale Perché ragazzi Mi fa male la testa Viva il blazer Allora ci sono delle litra qua Credo di poter venire da voi No basta Beh è finita però Non è finita È finita Guardavo un attimo Cosa c'erano queste fatti Ciao ragazzi Ciao Ehi ciao Come va Ma insomma Malino Qua siamo indecisi Se va fatto un salto Oppure no Ma penso dopo di sì Poi Non si farà mai Non l'ho capito È per forza quello Io vado a aspettare Tier Come Come Tano Come facciamo ad andare Su quel salto lì Io riesco a capire Come si deve fare Ciao Tier Ma io ti aiuto Guarda Tu ti metti qui Nell'angolo Vedi Così Come lo fai Ma scusa Devi stare proprio vicino Angolo W Control E spazio insieme Tier È easy Siete ancora caduti Ma dov'è che volevate buttare giù Tier Eh ormai Ma guarda anche qua Lo vedi Se noi riusciamo a dargli No prima eravamo in un punto più alto Ma guarda Se noi riusciamo ad andare laggiù Lo vedi dove sto indicando io E poi lo buttiamo di sotto là Ma è quel livello lì Che boh Forse è il 30 40 Ma lo butti giù di lì Che merda Che siete C'è da qua Sì sì da lì Da lì Se si butta nel Guarda nel tettino dietro Finisce chissà quale livello Qua mi sa che non ci vai No non ci puoi andare No no qua non ci puoi andare Prima eravamo in un posto In cui si poteva fare volendo Però ormai è salvato Tier Sei nella merda Se lo fanno si è fottuto Io non so Beh io le ho detto quello che faccio Se succede Vabbè almeno accetta la sconfitta La faccetta che siete degli infami di merda Allora che numero è Tier Vediamo un po' È il 95 Sono inchiestato su quel salto lì Che non riesco a fare Dai è una cagata Sei all'inizio Stanno di andarti lì Sì 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 che c'è Io do qualche consiglio a Tier Così lui va avanti E poi voi sarete spinti A usare le vostre tattiche Oppure a combattere tra di voi E dovremmo sapere cos'è Oh oh Tech Stavo vedendo Cosa stai facendo Stavo volentando la situa Stavo pensando Che Il problema Sai cos'è Tech Che anche se dovessimo tippare Tierless indietro Sì O lo tippiamo così indietro Da farlo quittare Oppure uno dei due Comunque deve finire la mappa Ed è un casino Capisci Capisci questa cosa Perché è difficile finirla Quindi bisogna puntare Sul far quittare Tier Tier zitto zitto Si sta conquistando La sua libertà Ma sarebbe Inopportuno dirlo Ecco Tier Corre di brutto 96 Sta quasi per diventare un intoccabile A meno che tu Appena l'hai detto Che ha dovuto E' ripartito Guarda Hai lo sguardo da parkourer Perché capisci subito Dove andare Mi piace Tipo È l'occhio La vista segreta Dei parkourer No Eh vabbè È caduto alla fine C'è tanto non lo sco Che si studia gli angoli Non lo so Io sto guardando I visuali Guardo punti strani Ah ok Pezzi di merda Non lo so C'è tanto di bugare la mappa Lollerino E se io Introducessi Un limite temporale In cui si frizzano le posizioni Sarebbe La cosa migliore Ma se ci fossero due Alla pari No Non lo so Mi vale tanto un salto easy Due alla pari Eh sì Allora io lascio fare con calma Tier Nel caso failasse Introduciamo il tempo limite Se no Non finiamo più Visto che la volete tutti concludere Sto avviando un timer di Dieci minuti Da partire da Ora Tier Non si fa sfuggire niente Ma Tano è così No No Ha failato la fine No Hai saltato troppo presto Sì Ho notato Hai saltato troppo presto Vabbè Scialla Sta parte qua è inutibile Tier non andrà mai nella zona di comfort Di sto passo Loro potrebbero fare L'infami Tiparsi all'ultimo E considerare che avere due avversari Anziché uno Sia più comodo Ed è quello che stanno pensando Tano mi sembra aver adottato Una tattica interessante Cosa è? Era un attimo a pensare No Tano È arrivato sotto Sperando che te che non ci arrivi Si è fermato lì In questo modo Non è in pericolo Hai capito? Mamma mia Tano Non ci vuoi neanche provare? Cosa? A questo alto qui Ci ho già provato prima È una pazzia Perché quello col salto Guarda vedi? E il salto con la testa sopra C'è qualcosa sopra Minchia una cazzata Ti giuro Sì Ma c'è il rischio di ricadere nella lava E poi comunque Quello dopo sarebbe una cagata Sì ma io prima l'ho fedato tantissimo Io non riesco più a fare i salti Neanche easy Cioè ragazzi Sono talmente stanco Che Te che Tano ti sta fregando Cosa? Tano ti sta fregando È rimasto fermo sotto Pensa che lì non ci arriverai Arriverai mai E così lui è salvo Te che tu hai il potere del TP Non ce la faccio più Ho le mani che mi fanno male raga Non ce la faccio veramente più Ragazzi Sono al limite della sovra Mi prendo Mancano 5 minuti Ve la potete ancora giocare Tutti quanti Non è ancora detto nulla Perché Tier potrebbe salvarsi Tano potrebbe stare lì E salvarsi Te che potrebbe tippare Tier E Usare Tano Per fare una tattica Oppure potresti tippare Tano Al tuo posto E spingerlo via E buttarlo di sotto Tipo nel livello prima E andare avanti Cioè potete fare Può succedere ancora di tutto Sai Se il Tec non mi avesse fatto paura Prima con il suo Minaccia di TP Io magari L'avrei potuto Cioè lui avrei potuto tippare Tearless Da lui E poi avrei potuto tippare Tec per salvarla E far perdere Tier Di proposito Però lui mi ha messo paura Quando andata al 68 Quindi Tano Tu hai deciso di stare lì Incastrato Ti stai facendo nemico Tec Che è l'ultimo ad avere Un peperoncino E potrebbe inculare te Al posto che Tier Che non se lo merita Sei sicuro? Tier se lo merita Tu Tu che sei stato Il più aiutato Il più malefico Di tutta la mappa Cosa vuoi? Io I livelli Guarda che ne ho fatti Un bordello Anche oggi Non hai fatto il primo però Sì l'ho fatto il primo Lentamente Ma l'ho fatto Non riesco a salire Non ce la faccio più Raga io vi sto guardando Cioè c'è Tira Che sta negando Sott'acqua Io guarda Io piuttosto guarda Troppo mi lascia morire Sott'acqua Io non Non credo di farcela più A saltare Te che è distrutto Tano Tano fa l'infame Lì sotto Tano è veramente Tano è davvero furbi Quello comodo Cazzo Quello comodo è una cosa Io ti dico Ho Fanculo Non ce la faccio più Raga Io ho passato Di questi 10 minuti Forse 6 A cercare di risalire Dalla corrente d'acqua Perché non la so sfruttare Vabbè ormai Tira effettivamente è inutile Tira tu preparati All'eventuale TP Sì infatti io per quello dico Non mi interessa Provare a fare cose Grandiose Aspetto il TP Aspetto il TP Perché so che arriverà Ti piacerebbe Oddio Tec Mancano due minuti Sta raggiungendo Tano No no qua non riesco a farlo Questo salto L'ho fatto una volta sola Non riesco più a farlo Vai un po' più avanti Un pelino Sei nella metà bassa Della scala Sì ok Vedi faccio un po' più che prima ho fatto Tano usato il potere finale del rutto È una cosa che blocca il potere di chiunque Tipo Il rutto di Tano È l'erazer dei parkour Blocca le tastiere È un malware Capisci Esatto Attenzione Tec Si prepara a qualcosa di strano Eh si sta preparando A saltare Buttare Tano nella lava Ucciderlo All'altro tempo O salvarsi Così Tano è più indietro Oppure lo farà con Tiar Oppure lo farò con me stesso Manca un minuto esatto Le posizioni Probabilmente non verranno più toccate Quindi la telecamera A questo punto sta su Tec Tec deve decidere cosa fare Tec Hai un potere Tec è il 92 Tec Hai praticamente perso in questo momento Ma se usi il potere Puoi fottere qualcuno Tec cosa fai? Adesso te lo dico Hai 37 secondi 37 secondi Questo è al cardiopalma 30 secondi Tec cosa farà? Io ho già la tappi Chi tipperà? Se ti fa me ho già la tappi Chi tipperà? Chi tipperà? E quando lo farà? Oddio Ha tippato Tano Ha tippato Tano Non riesce a buttarlo giù Non è riuscito Qualcuno vada 16 secondi 15 Oddio Tano sta provando il salto Tec Sta provando il salto 10 secondi 10 secondi Raga Raga Andate sui salti Andate sui salti 5 4 3 2 1 0 Non si può Però È finito È finito È finito Siamo pari È finito il tempo In qualità di campione della torre Ora state immobili State immobili Ok? Tier Dimmi Hanno tramato entrambi contro di te Sono arrivati alla pari I due malfattori Ora Scegli chi buttare giù E chi salvare Stai a te Amore mio Io Non ho mai fatto nulla contro di te Stai a te Non è che io ho fatto nulla contro di te Sono il tuo ragazzo Non potete opporre l'esistenza Ti amo Amore Cosa ha fatto? Si è buttato Tier Che cazzo è sta cosa lì? Me torna su Prenditi le tue cazzo di responsabilità Brutta merda Non l'accetto Vieni qua Tier Allora Tu sei arrivato secondo Ufficiale Lo sai Ti voglio bene Tier Io Tier Non ti ho fatto niente in questa partita Non ti ho detto nulla Tier Tu mi hai partito Hanno tramato Ti volevano Vedere perdere In realtà non è vero Tier Non fare la voce Io non ho mai Tier È vero Ti volevano morto Ti volevano ultimo Anche se non te lo meritavi Tier Non accetto che ti butti Devi sacrificare uno dei due Tier Hai Hanno avuto il potere di fotterti Hai vissuto con l'ansia Hai vissuto con l'ansia Rascoltami Tia Rascoltami bene Decidi Io in quest'ultima cosa Che ho fatto Che ho tentato di buttare indietro una persona Potevo farlo con te Come con Tano E Eren non sa cosa ha fatto Mi sono messo sul bordo del 92 Per buttarlo giù Quindi ho scelto di fare Tano Lui ha fatto del male Una persona Comunque Io invece ho usato i miei poteri Per tippare lui da me Ovvero portarlo Livelli avanti Quando era bloccato Da ore Per convenienza Tano E Tec Tu hai pensato di fottere Tier Ben prima di Tano Siete entrambi dei malfattori Ma io non ho fatto male a nessuno E' andato Tano E' andato Tano Noi sono ancora Non hai finito il lavoro Tia Non volevo dirtelo Effettivamente Tec avrebbe potuto Tippare me E non Tano Ma è stato cattivo Io no Ragazzi Tec mi ha riuscito più di volte Non ho mai visto una roba del genere I peperoncini sono stati L'anima della festa Sono uscite delle cose Che Non avrei mai pensato Cioè La mia creatura mi è sfuggita di mano E' stato bellissimo La classifica finale Recita quindi Il mio primo posto E il secondo posto Meritato alla fine di Tier Grazie Tec Al terzo posto E Tano Con qualche trucchetto Con qualche trucchetto Tano condannato All'ultima posizione E alla penitenza Io non vi dico ancora Che skin metterà Ma sappiate Che arriverà Una serie speciale Per Natale Potete già capire Che cosa succederà Per tutta Quella serie Tano dovrà tenere Quella skin Ragazzi Preparatevi E ci vediamo Molto presto